Siamo qui con Gabriele Procida per Allerone Net. Allora, innanzitutto, Gabriele, come stai? Tutto bene, tutto a posto. Oggi sei rimasto fuori dalle rotazioni, comunque nessun problema? No, no, siamo in tanto, il coach fa rotare, abbiamo tante partite, quindi io sono a posto. Tante partite, anche in campionato, soprattutto perché ormai che in Eurolega sono definite, non siete play-off, però in campionato... No, ci teniamo a chiedere bene e comunque sono partite da giocare, quindi sicuramente ci teniamo a fare bene. Infatti state comunque lottando, perché anche oggi per tre quarti, due giorni fa contro il Basconi, insomma si è vista un'ottima alba, una squadra... Sì, sì, stiamo giocando comunque bene dopo una fase un po' difficile, dove abbiamo avuto un po' di partite perse di fila, però stiamo lottando, stiamo giocando bene fino all'ultimo, quindi ovviamente sono squadre di altissimo livello che probabilmente faranno entrambe i play-off, quindi è un'ora rosa. E avevate iniziato fortissimo in Eurolega, poi cosa è successo? Ma niente, le squadre comunque sono salite di livello, hanno iniziato a conoscersi di più, noi comunque ci conoscevamo da poco tempo, soprattutto gli altri ragazzi, stanno insieme da ormai 400 anni, quindi ci conoscevamo già bene tutti, e niente, secondo me è stato questo vantaggio iniziale, poi dopo le altre squadre hanno continuato a lavorare per conoscersi e hanno sempre visto il risultato. E invece in Bundesliga siete lì, vi state giocando il primo posto con il Bon, è un campionato in crescita, sempre molto interessante, e come vedi questa lotta per la regular season, poi ovviamente ci saranno i play-off? Abbiamo vinto contro di loro all'andata, e adesso tra poco mi sembra che abbiamo giocato il nuovo contro, quindi si vedrà, c'è anche il Bayern che comunque ha messo bene, quindi sarà sicuramente una bella lotta. E fino ad ora cosa ci puoi dire della tua esperienza a Berlino? Mi trovo veramente bene, ho tante responsabilità, ho tanti minuti in Eurolega per far vedere quello che non ti faccio, per aiutare la squadra, anche in campionato, quindi sono felicissimo, mi sto sentendo molto migliorato giorno dopo giorno, lavorando individualmente, con la squadra i compagni sono fantastici, e con il staff anche, quindi sono veramente contento di aver fatto questa scelta. Scelta azzeccatissima. Sì. Perfetto, grazie mille.